Amici carissimi ben ritrovati puntata specialissima dedicata al mondo dell'usato siamo ospiti di Rabbino Auto e ci troviamo nel nuovo grande piazzale dedicato all'usato qui a Pinerolo in via vecchia di Buriasco io come sempre sono accolta da Riccardo Adorno che rivedo con piacere ciao ciao Sogna un saluto a tutti gli spettatori Amici carissimi un vasto piazzale di autovetture d'occasione selezionate e certificate denominate naturalmente Renault Selection una bella selezione hai preparato? Sì vi ho preparato una selezione di tutte le marche non solo Renault ma abbiamo tutte le marche usate abbiamo anche dei veicoli commerciali per quanto riguarda l'usato quindi siamo in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze con le nostre vetture controllate e garantite inoltre tutte le nostre vetture sono interamente finanziabili per venire incontro alle vostre esigenze e cercarle di soddisfare nel modo migliore Certamente perché l'obiettivo primario di Rabbino Auto è la soddisfazione del cliente prezzi comodi facili pagamenti finanziamenti agevolati vediamo ecco parlando di veicoli commerciali una delle nostre migliori occasioni parliamo di questo jumper 2002 di cilindrata del 2011 con pochissimi chilometri siamo a 33.000 chilometri venite a scoprire il prezzo che è veramente interessante eleganza fatta macchina una splendida Passat berlina benzina del 2008 con pochissimi chilometri abbiamo neanche 40.000 chilometri con un'offerta dedicata veramente veramente vantaggiosa un particolare finanziamento per questa vettura torniamo in casa Renault abbiamo un Espas del 2006 tanto spazio a un prezzo veramente veramente contenuto venite a vedere questa vettura e chiudiamo con tre macchine veramente veramente interessanti abbiamo il multispazio di Fiat un cubo del 2009 con solo 60.000 chilometri a un prezzo estremamente interessante continuiamo con la piccola di casa Alfa una Mito abbiamo una Mito Distintive 1.4 benzina del 2009 con solo 10.500 chilometri venite a scoprirne il prezzo e chiudiamo con il multispazio di casa Renault il Kangoo abbiamo uno splendido Kangoo 1.5 diesel del 2008 con solo 78.000 chilometri un'offerta che vi invito a venire a scoprire qui da noi all'Arabino sono tante le proposte d'occasione che Riccardo vorrebbe farvi apprezzare siete tutti invitati quindi a scoprire questo grande piazzale dedicato all'usato ma non solo usato, vero Riccardo? no, qui in questo piazzale siamo in grado di servirvi con tutte le nostre proposte usate con i veicoli commerciali sia usati ma anche nuovi e anche con le vetture nuove di casa Renault e di casa Dacia ricordiamo l'indirizzo e l'ubicazione di questa sede e come raggiungerla? sì, siamo in via Vecchia di Buriasco siamo all'uscita della tangenziale prima del cavalcavia praticamente sulla rotonda bene, io ti ringrazio vi ricordo Rabino Auto in grado di soddisfare tutti i vostri desideri quindi venite a scoprire questo grande piazzale qui a Pinerolo vi ricordo anche di andare sul nostro sito motori.tv per iscrivervi gratis alla nostra newsletter e ricevere così gratuitamente auto occasioni online alla prossima grazie a tutti i vostri desideri grazie a tutti i vostri desideri